Per me è un'emozione incredibile questa, è sicuramente un successo anche essendo partiti leggermente in ritardo. La coalizione mi ha sostenuto moltissimo, è una coalizione unica che mi ha dato la possibilità di fare un programma molto pratico, concreto, come sono io. Quindi ringrazio in primis tutta la coalizione, ringrazio sia la parte partitica che le due liste civiche, ringrazio poi il mio partito, la Lega, per tutto il sostegno che mi ha sempre dato, anche attraverso i suoi rappresentanti, per la sezione giovane che ci ha messo tantissimo entusiasmo, è veramente una sezione nuova che è ripartita dal nulla, ma ha realizzato un risultato incredibile con l'alleanza attraverso gli altri partiti e la coalizione. Sicuramente c'è tanto da fare adesso a Lissone, ma sono sicura che potremo portare avanti un buon lavoro, che è la cosa più importante e adesso c'è da lavorare.